Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube da Simone Pasqua alla Juventus Vince il big match di Serie A contro l'Inter, vince per 2-1 a Milano al San Siro Passa in vantaggio la Juve con Paolo Di Bala, poi pareggia l'Inter con Lautaro Martinez e Gonzalo Higuain nel secondo tempo chiude la partita, la porta a Torino e quindi il big match se lo giudicano i colori bianconeri se lo giudica la Juventus che batte la più grande rivale per lo scudetto di quest'anno, l'Inter